100 parlamentari della Lega oggi a Palermo a sostegno di Matteo Salvini in difesa delle vicepremiere al processo Open Arms. A Palermo confisca e sequestra chi bene a cosa nostra per 1.200.000 euro. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di Girolamo Ciresi e di Salvatore Fiorentino. Rappo un incontro sulle iniziative in corso per promuovere e sostenere le politiche ambientali. Palermo capitale della gentilezza per tre giorni attraverso i rappresentanti mondiali viene promossa la gentilezza come strumento di sostenibilità sociale. Al via il progetto pilota le vie della lava e le contrade dell'Etna Nebro di Taste and Travel. Ben trovati alla prima edizione di Media News. Apriamo con la politica. 100 parlamentari della Lega oggi a Palermo a sostegno di Matteo Salvini nel giorno della ringa dell'avvocato Giulia Buongiorno in difesa delle vicepremiere al processo Open Arms. Perché in piazza? Perché portiamo il nostro sostegno a Matteo Salvini che è il nostro segretario federale che ha difeso i confini nazionali e per noi è abbastanza assurdo che per questo motivo sia sotto processo. Massima fiducia nella magistratura convinti che alla fine ne uscirà assolto. All'origine di tutto c'è comunque una volontà politica di punire la Lega Salvini. Mi fa sorpresa che ci si dimentichi ancora il caso Palamara e tutto quello che abbiamo letto sull'intercettazione o meglio quel fatto sconvolgente di una magistratura che riconosceva la correttezza degli atti di Salvini però diceva che bisogna punirlo, bisogna andarlo a inquisire perché è nostro avversario, nostro inteso loro. Quelle cose non è che ce le dimentichiamo e quindi inquinano molto i termini proprio di correttezza nel giudizio. Quello che non riesce a fare il PD in Parlamento poi cercano di farlo nelle aule di giudizio. È la prima volta che viene portato avanti un processo di questo tipo. Eravamo in un governo dove una parte, facente parte del governo, poi ha cambiato rotta mandandolo a processo. Noi siamo qui perché pensiamo che sia un processo sbagliato perché come ho detto prima Matteo Salvini ha difeso i confini, ha portato avanti politiche chieste dagli italiani e ha fatto il suo dovere. Perché è in piazza? Per esprimere solidarietà a Matteo Salvini colpevole di aver difeso i confini dell'Italia. Onestamente non si può accettare l'idea che sul banco degli imputati non sia finita l'episodio dell'open arts, ma semplicemente un'ideologia, un pensiero politico con il suo leader. È chiaro che si tratta di un processo politico, noi auspichiamo che tutto possa finire in fretta e chiaramente in questa giornata vogliamo esprimere solidarietà a un uomo che ha messo tutto in questa vicenda nella consapevolezza che veramente rischiava la propria vita sul piano politico e sul piano umano. Cronaca a Palermo e i carabinieri hanno eseguito un decreto di confisca e sequestro di beni a Cosa Nostra per 1 milione e 200 mila euro. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di Girolamo Ciresi, boss del mandamento di Porta Nuova e di Salvatore Fiorentino della famiglia mafiosa di Tommaso Natale. Confiscati e sequestrati beni per 1 milione e 200 mila euro e danni di Cosa Nostra, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo hanno eseguito due misure patrimoniali nei confronti del boss del mandamento di Porta Nuova, Girolamo Ciresi e di Salvatore Fiorentino, che avrebbe fatto parte della famiglia mafiosa di Tommaso Natale. Per Ciresi, in seguito alla sentenza della Corte di Appello pronunciata lo scorso giugno, è stata dichiarata irrevocabile la confisca di primo grado emessa nel gennaio del 2022 dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale del Capoluogo. L'uomo, 76 anni, era stato arrestato nel corso dell'operazione Pantarei perché coinvolto nelle estorsioni a imprese e negozi al Borgo Vecchio. Le indagini condotte dalla Procura hanno permesso di dimostrare che i beni del mafioso per un valore di 700 mila euro fosse in realtà il frutto delle sue attività illecite. Da qui il provvedimento irrevocabile di confisca di un appartamento a Palermo, di una villetta e di un terreno a Carini, nonché di otto conti correnti. Per Fiorentino, 42 anni, arrestato nell'operazione Bivio per aver fatto parte della famiglia del progetto Maso Natale, è scattato un decreto di sequestro di circa 500 mila euro. È messo il 27 settembre dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. I carabinieri hanno sequestrato un ufficio di 15 stanze in via Perpignano, un'auto e un conto corrente bancario. Ha tentato di uccidere la madre colpevole di non aver dato i soldi per comprare la droga. La Polizia di Stato è arrestato un uomo di 32 anni per tentato omicidio aggravato e contestualmente l'ha denunciato per maltrattamenti nei confronti della donna di 62 anni. L'episodio di violenza si è registrato a notte fonda in una casa del quartiere Cibali ed è stato scongiurato il peggio grazie all'intervento immediato degli agenti della squadra volanti della questura di Catania che hanno fermato l'aggressore e messo in sicurezza la scena del crimine e del personale sanitario del 118 che ha prestato i soccorsi alla donna distesa a letto su un materasso zuppo di sangue. A dare l'allarma è stato il fratello della 32enne raccontando ai poliziotti e ai soccoritori dell'azione violenta perpetrata dal fratello nei confronti della loro madre ferita in modo efferato con numerose coltellate all'appetto e alle braccia. I poliziotti hanno trovato l'aggressore in una stanza da letto con una vistosa ferita alla mano e gli abiti intrisi di sangue. Anche le pareti dell'abitazione presentavano evidenti tracce matiche e le diverse stanze si trovavano a suo quadro. Il coltello utilizzato è stato sottoposto a sequestro e il 32enne è stato arrestato. Incassava in maniera illecita incentivi per le aziende del mezzogiorno la guardia di finanza di Agrigento ha sequestrato ad un imprenditore beni per oltre un milione di euro. Sequestrate dalle fiamme gialle del comando provinciale di Agrigento, disponibilità finanziarie e beni per circa 1,2 milioni di euro nei confronti di un'impresa, di fatto non operante in Sicilia che avrebbe illecitamente fruito di incentivi fiscali destinati alle aziende del sud. L'imprenditore di origini siciliane lavora nel settore delle tecnologie informatiche a Milano. La sua società con sede in Sicilia avrebbe infatti goduto degli incentivi fiscali per gli investimenti nel mezzogiorno, ottenendo così anche crediti d'imposta finanziati con il PNRR. L'attenzione degli investigatori si è da subito concentrata sui cospicui crediti d'imposta fruiti dall'impresa negli anni dalle 2020 al 2023 e maturati per attività di ricerca e sviluppo interamente ideata e svolta nel capoluogo lombardo, in parte utilizzando proprio personale dipendente e in parte avvalendosi di consulenze fornite da società amministrate dallo stesso imprenditore o da suoi familiari. La società avrebbe quindi impiegato questi crediti non spettanti per abbattere illecitamente il proprio debito, sia nei confronti del fisco che nei confronti degli enti previdenziali. I crediti non ancora utilizzati in compensazione sono stati sottoposti a procedura di sospensione d'intesa con l'Agenzia delle Entrate. Piana degli Albanesi accoglie il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente d'Albania. Festa per la comunità, vediamo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica d'Albania Bayram e Begai sono in visita a Piana degli Albanesi in occasione dell'incontro sulla storia e la cultura arberesce in Sicilia. Presenti anche le massime autorità locali, civili, militari e i sindaci dei comuni arberesce di Sicilia ed Italia. L'incontro, ha spiegato il sindaco della cittadina, Rosario Petta, rappresenta un momento di rafforzamento dei legami storici, culturali e politici che uniscono l'Italia e l'Albania. La visita dei due Presidenti rappresenta non solo un segno di amicizia e collaborazione, ma anche un momento importante per celebrare la nostra comune eredità culturale che affonda le radici in secoli di scambio e integrazione con le comunità arberesce in Italia, esempio di convivenza tra le diverse culture. Parliamo di rifiuti alla sede Rapp a Palermo, un incontro sull'iniziativa in corso per promuovere e sostenere le politiche ambientali portate avanti dal comune di Palermo e basate sulla riusa e sul riciclo dei rifiuti. In questo momento delle 40 macchine mangiaplastica che dovrà collocare Corepla, chiaramente di concerto con la Rapp, ne sono state collocate 25, ne sono state collettate 15, i dati ad oggi sono molto comportanti, registriamo un conferimento particolarmente elevato, è chiaro che questo si deve unire ad altre attività. Abbiamo questo dato molto importante e comportante, da soltanto due settimane siamo partiti a Mondello e in quell'area abbiamo già una percentuale della quota a differenza del 54%, è un dato non indifferente. A questo aggiungo che ad oggi non abbiamo ricevuto nessun feedback negativo da parte di nessun cittadino, cioè il servizio ha funzionato giornalmente con la raccorta puntuale. Questo credo che sia un segno dove questa città ha una sensibilità, bisogna soltanto avere la capacità e la forza di lavorare insieme. Chiaramente alle macchine mangiaplastica, questo lo voglio preannunciare, ci siamo resi conto che bisogna lavorare fianco a fianco col cittadino. Devo dire al discapito di qualcuno che pensava che la città non rispondesse, invece siamo lieti oggi di dire questo. Ogni tanto, applaudiamo i cittadini che stanno avendo il buon lavoro. Le macchine di mangiaplastica, a parte un caso che ha avuto qualche danneggiamento e ci dispiace, però noi stiamo continuando ad aggiustarla in via Tindari, dico pure la via. Per il resto tutte le mangie di mangiaplastica stanno dando un grandissimo risultato. Con solo 10 macchine, che oggi comunichiamo che sono 25 e diventeranno 35 nei prossimi 20 giorni circa, abbiamo 2.000 tonnellate di plastica già raccolti, macchine che in realtà, non un dato significativo, abbiamo fatto una programmazione di scaricarle una volta ogni 3 giorni, ogni 4 giorni, ogni 5 giorni, in realtà per fortuna vogliamo dire, perché siamo felici di questo, le scarichiamo molto più velocemente. Nella zona dove viene messa la macchinetta, si fa un giro intorno ai commercianti anche della zona, per dire che chi vive in quella zona può trovare anche nei negozi della zona e questo è un lavoro che stiamo facendo. Oggi presso l'Istituto Ettore Maiorana in via dell'Olimpo a Palermo, l'Arcivescovo Monsignor Corrado Lorefici ha incontrato alunni, docenti, famiglie e personale scolastico per l'inaugurazione del Morales a Palermo, libera dalla peste e dalla mafia. Benvenuto Monsignor Lorefici! Oggi l'Arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefici, ha inaugurato presso l'Istituto Ettore Maiorana all'interno del Presso Olimpo il Morales realizzato dagli studenti che ha come tema Palermo libera dalla peste e dalla mafia. Costituisce il compito di realtà di un percorso didattico dedicato al Giubileo Rosaliano. Non sono qui per fare una parata dell'autorità religiosa, io ci credo di essere in mezzo a voi, io vi voglio incontrare, questa è la cosa più bella e ve lo dico perché se io oggi sono una persona libera, capace di pensare la mia vita che appartenga ad altri è perché io ho incontrato lo stesso Dio che ha incontrato Rosalia, che è Gesù Cristo, che mi ha detto che io sono figlio di Dio e solo se sono figlio di Dio sono libero, libero, non che chi non abbia una fede non è libera, ma se addirittura nella mia vita è entrato Gesù Cristo io non posso non essere libero da tutti, a maggior ragione dai falsi, lupi, rapaci che vogliono fregarci la vita. oggi voi ragazzi lo sapete molto meglio di me che ci sono tanti che vi dicono che sarete felici se sarete capaci di imporvi sugli altri, se sarete felici se avrete la capacità di farvi una dose di crack, io parlo con schiattezza, sappiate che non gliene frega un tubo della vostra felicità a chi vi vende la droga, vi vuole solo schiavi, vuole i 5 euro per ogni dose di droga che vi fate, non gliene frega un tubo di voi, vi vuole schiavi della droga, questa è la verità. Palermo capitale della gentilezza per tre giorni attraverso i rappresentanti mondiali viene promossa la gentilezza appunto come strumento di sostenibilità sociale, saranno consegnati tre documenti programmatici al governo nazionale, all'ONU e alla Nato con l'auspicio che la gentilezza venga considerato il tredicesimo indicatore del benessere sociale che venga riconosciuta la giornata mondiale della gentilezza sotto l'egida delle Nazioni Unite. Undicesima Assemblea Mondiale della Gentilezza arriva in Sicilia, Palermo capitale della gentilezza per tre giorni. Saranno e sono tre giorni di grande dibattito, grazie ai nostri divulgatori e ai rappresentanti delegati dei paesi membri del World Kindness Movement affronteremo temi molto delicati che vanno oltre la gentilezza intesa come buone maniere ma come strumento di sostenibilità sociale, è una festa ma è anche un motivo di crescita e di impegno per realizzare tutte le ricerche a sostegno delle nostre tesi e dei nostri valori. Desideriamo fare un po' da pungolo, abbiamo tre istanze, un'istanza rivolta al nostro governo col desiderio e l'auspicio che la gentilezza possa essere considerata tredicesimo BES, quindi l'indicatore del benessere sociale che può influire sul prodotto interno lordo. Cos'è la gentilezza? La gentilezza è una cosa bellissima, è amore e non ha colori. Siamo veramente contenti di essere in vostra compagnia questa settimana con il Movimento Mondiale per la Gentilezza e io sono il CEO e fondatore di Nerds Rule Inc. Daria Biancardi un esempio di gentilezza e non a caso la gentilezza è stata proprio il light motive di alcuni due concerti che vedremo proprio questo Natale. Sì, è come dici tu il light motive in realtà di tutta la mia vita perché ho sempre cercato un po' con i miei concerti sicuramente ma anche con tutte quelle che sono le mie presenze insomma di diffondere un po' questo che secondo me è un messaggio bellissimo, il fatto che la gentilezza può cambiare davvero le cose, può cambiare il mondo. Noi come ordine giornalisti due anni fa abbiamo sviluppato una serie di convegni di tavole rotonde legate alla crisi del nostro mondo inevitabile ma anche sul modo di scrivere, sull'utilizzo di termini, prima si utilizzavano circa 800 termini giornalieri per quanto riguarda gli iscritti sui giornali o televisivi o sui siti, oggi siamo a 400 e sono sempre le stesse parole a volte pungenti, puntute e quindi la gentilezza secondo me è fondamentale anche nel nostro mestiere. La gentilezza è un ingrediente necessario della buona politica in Sicilia come a livello nazionale così come in Europa e ne abbiamo davvero tanto bisogno di buona politica, penso che la gentilezza è cultura e la cultura è gentilezza. Sono molto contento per questo convegno organizzato da Natalia Re che favorisce l'occasione di un confronto gentile e utile per la nostra regione. E ci spostiamo ad Aci Catena dove si terrà dal 20 al 27 ottobre la settimana della legalità in onore del beato Rosario Angelo Livatino con eventi religiosi e civili per promuovere la giustizia e il contrasto alle mafie. Il prossimo 26 ottobre un convegno vedrà la partecipazione di figure istituzionali e religiose per discutere di legalità e responsabilità civica. La reliquia sarà venerata anche a riposto il 27 ottobre. L'accoglienza della reliquia del beato Rosario Livatino nel territorio di Aci Catena insieme al convegno sulla legalità rappresenta un evento importante specialmente nel contesto di sensibilizzazione sulla giustizia e sui valori morali che Livatino ha incarnato. Dal 20 al 27 ottobre la città di Aci Catena e le sue frazioni celebreranno il beato Rosario Angelo Livatino nei diversi appuntamenti a carattere religioso e civile. Le comunità parocchiali, le scuole e le associazioni saranno coinvolte nella settimana della legalità insieme a rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della società civile contribuendo così ad una collaborazione trasversale nel promuovere il bene comune e combattere le mafie. Rosario Angelo Livatino, conosciuto come il giudice ragazzino, originario di Canicattì e fervente uomo di fede, è stato un magistrato italiano che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la criminalità organizzata. Per questo motivo è stato ucciso ad Agrigento nel 1990 per mano della Stidda, un'organizzazione mafiosa. La beatificazione nel maggio 2021 lo ha elevato a testimone di giustizia e di coraggio. Sarà possibile venerare la reliquia anche nel territorio ionico etneo a riposto domenica 27 ottobre a partire dalle 16 per poi fare rientro ad Agrigento. Il comune e la città di Cicatena, tutte le realtà ecclesiare della città, cospiteranno dal 20 al 27 di ottobre le reliquie del beato Rosario Angelo Livatino, martire della giustizia, veramente esempio di legalità. In questa occasione la città insieme a tutte le comunità ecclesiali hanno indetto una settimana per la legalità, così che incontreremo tutte le varie realtà, dalla realtà delle scuole di ogni ordine grado, ai vari appuntamenti giovani nella piazza San Pio di Cicatena, per poi arrivare a un grande convegno sulla legalità dove saranno presenti autorità, il vescovo di Agrigento, il vescovo 10 reale e tante altre attività che potranno diffondere un messaggio di legalità ma anche un messaggio di martirio e dare nuovo rinnovamento e nuova linfa vitale alle comunità ecclesiali di Cicatena. Ascoltiamo adesso il vice sindaco di Santa Flavia, Daniele Marino in merito al servizio di assistenza alla comunicazione e all'autonomia 2024-2025 per gli studenti diversamente abili. Questo comune da sempre tiene a offrire alla popolazione scolastica flavese servizi che garantiscono il diritto allo studio, in particolare per quegli alunni con delle disabilità. Questo servizio quest'anno sta partendo con ritardo, motivo per cui chiediamo d'amministrazione, chiediamo scusa ai ragazzi e ai genitori dei ragazzi ma ci tenevo a precisare un po' l'iter burocratico perché le polemiche lette via social. Contestualmente tengo a precisare a garanzia e a tutela degli operatori dell'area servizi sociali che lavorano quotidianamente per rendere un servizio ottimale. è sempre stato garantito, sempre nello stesso modo e soprattutto siamo degli amministratori che oltre a rendere il servizio alla nostra comunità gestiamo la cosa pubblica, gestiamo denaro pubblico e il tutto deve essere fatto nel rispetto delle regole, rispetto delle regole che determino delle tempistiche, tempistiche che possono essere considerate delle lungaggini ma è il giusto tempo che ci vuole all'affidamento di un servizio. Dai verbali GLO il Comune determina che 42 bambini hanno diritto all'assistenza alla comunicazione. Da questo punto in poi, già dalla prima metà circa di settembre, il Comune mette in condizione i genitori con le liste di scegliere gli operatori che devono assistere al proprio bambino a scuola. Lavoro propedeutico per l'erogazione del servizio stesso ai bambini che di anno in anno cambia in riferimento all'esigenza del bambino stesso. I borghi siciliani connessi diventano luoghi preferiti dal 41% degli smart workers. La fibra ottica diventa così leva di sviluppo per le aree interne. I borghi più belli d'Italia, con circa 9 milioni di visitatori, contribuiscono per oltre 5 miliardi di euro all'anno all'economia italiana come attrazione turistico-culturale, rappresentando anche una conseguente fonte di valore economico. In questo scenario, la Sicilia si conferma una delle regioni del sud con la maggiore percentuale di visitatori internazionali dei borghi. Il dato emerge dallo studio l'impatto economico e occupazionale del turismo e la digitalizzazione nei borghi più belli d'Italia. Dall'analisi emerge che l'evoluzione storica della copertura della banda ultralarga nei borghi più belli d'Italia è in forte crescita negli ultimi anni, sia considerando i comuni sia le unità immobiliari coperte. Ad oggi il 63,9% dei borghi gode di una copertura Fiber to the Home, una percentuale rilevante se si considera che solo nel 2019 questa arrivava al 2,2%. Solo con un tale sviluppo infrastrutturale, sostengono gli analisti, sarà possibile ridurre il gap di mercato e creare condizioni di sviluppo economico e sociale attrattive per i lavoratori. Molti di questi borghi sono interessati dall'Open Fiber Tour, il viaggio che da giugno l'azienda di telecomunicazioni sta conducendo in Sicilia per incontrare le comunità locali con l'obiettivo di illustrare i vantaggi della fibra ottica. 24 tappe fino a dicembre da Borgetto a Sambuca di Sicilia, passando da Montedoro fino a Monte Rossoalmo, dove Open Fiber ha realizzato l'infrastruttura di rete di proprietà pubblica in oltre 300 comuni delle cosiddette aree bianche. Un progetto che ha migliorato l'inclusività territoriale della Sicilia grazie all'innovazione delle reti, che oggi raggiungono oltre 600.000 unità immobiliari tra abitazioni, imprese, scuole, strutture sanitarie e uffici pubblici. Altro dato interessante che emerge dalla ricerca è quello della crescita del numero di lavoratori che hanno cominciato a soggiornare nei borghi in modalità smart working a seguito della pandemia. Questo fenomeno sembra confermare un trend in atto. Infatti, secondo una ricerca di INAP, il 41,5% dei lavoratori sarebbe disposto a trasferirsi in un luogo più isolato, a contatto con la natura, ed il 34,5% in un piccolo centro abitato. Per noi a disporre di una fibra veloce è ormai un bene di cui non possiamo più fare a meno, ed è un'infrastruttura indispensabile in particolar modo per quelle piccole realtà delle aree interne che hanno poche opportunità, pochi servizi, e questo invece ci consente di essere meno lontani dei grandi centri e dei grandi luoghi. L'abbiamo visto soprattutto durante il periodo Covid, in cui tutti abbiamo potuto fruire di un servizio davvero eccellente come quello della fibra ultraveloce. Sono stati completati i lavori per la nuova illuminazione della Galleria Scindopasso a Favignana. Il progetto si caratterizza per l'impiego di tecnologie avanzate e a basso consumo energetico, nel rispetto dell'ambiente, con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza stradale per i cittadini. Vediamo. Cari concittadini e cari concittadini, come si può vedere dal video, sono stati completati i lavori per la nuova illuminazione della Galleria di Scindopasso. È un sistema di illuminazione innovativo, differenziato tra i punti di ingresso e il resto della galleria, tra il giorno e la notte. È stato un investimento che abbiamo voluto come amministrazione comunale per non fare una semplice sostituzione di lampade, ma per dotare ormai la nostra galleria di un sistema di illuminazione avanzato e moderno. Credo che è stato fatto un buon lavoro, di questo bisogna ringraziare anche l'impresa che in tempi rapidi ha realizzato un lavoro di alta qualità e di importante tecnologia. È un servizio per la nostra comunità e soprattutto per chi attraversa in auto, su moto o in bici la nostra galleria. Turismo ed enogastronomia, il progetto pilota, le vie della lava e le contrade dell'Etna-Nebrodi Taste and Travel, dell'assessorato regionale al turismo, finanziato dal Ministero del Turismo. Quattro fine settimana, a partire dal 25 ottobre fino al 17 novembre, 250 strutture coinvolte e 30 eventi che interesseranno i due territori siciliani dell'Etna e dei Nebrodi. Il progetto al quale tengo, teniamo in maniera particolare, è un progetto realizzato insieme al Ministero del Turismo, insieme quindi al Ministro Santanchè. È un progetto che comunque nasce da una priorità che si è dato, mi ha assessorato sin dall'inizio del mio mandato ed è quello della destagionalizzazione. Allora dovevo utilizzare i punti di forza della Sicilia che sono tantissimi, però abbiamo voluto mettere in evidenza cultura ed enogastronomia. Queste le azioni importanti che volevamo far emergere e soprattutto se si parla di destagionalizzazione chiaramente le azioni che metti in campo le devi mettere in campo non in periodi di alta stagione ma fuori da quel periodo. Tra le altre cose i dati ci dicono che oggi il turismo è cambiato, cioè nel senso che il modo di viaggiare è cambiato ed ha anche il periodo. Noi registriamo flussi turistici importanti in periodi di destagionalizzazione. Le faccio un esempio, soprattutto gli stranieri. Gennaio-marzo 2024 noi abbiamo un più 20% di presenza degli stranieri in Sicilia. Il che significa che tu in quel periodo devi realizzare degli eventi per far diventare la Sicilia ancora più attrattiva. Noi diciamo sempre che Sicilia è bellissima dal punto di vista naturalistico, assolutamente sì, culturale, assolutamente sì, un patrimonio artistico e culturale di tutto rispetto che ci invidia il mondo, ma anche gli eventi diventano importanti. Questo evento appunto vuol mettere in evidenza e vuol valorizzare oltre che il paesaggio, oltre che i comuni che sono meno forse interessati dei flussi turistici e quindi accendere i riflettori su luoghi meravigliosi e chiaramente mettendo in risalto anche l'eccellenza dei nostri prodotti dell'enogastronomia. Considerate che una grande percentuale di viaggiatori scelgono la destinazione secondo proprio l'enogastronomia che vi trovano. Oggi c'è un altro concetto che è quello del turismo sostenibile. È una parola che può declinare in tantissimi modi, sicuramente anche quello della socializzazione. Il viaggiatore vuole calarsi nel territorio, conoscerne storia, tradizione e cultura avendo un rapporto diretto con la gente del luogo. Ecco, questo progetto intende proprio fare questo. Da qui mi auguro, e questo è il motivo per cui abbiamo coinvolto le agenzie di viaggio fondamentali per noi, questo progetto, dicevo, da questo progetto deve uscire fuori un prodotto turistico da consegnare agli agenti di viaggio affinché possano promuovere con dei pacchetti, come dice il ministro Sant'Ancae, sexy, che attirino ancora di più questi viaggiatori in Sicilia. Poiesis, il titolo di una mostra d'arte contemporanea allestita all'Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale a Monreale, potrà essere visitata sabato e domenica prossima dalle 9 alle 20, organizzata da Rotaract Club Palermo Ovest e Rotaract Club Palermo. Poiesis ci aspetta il 19 e il 20 ottobre presso l'Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale, ma di cosa si tratta? Poiesis è una mostra d'arte contemporanea, è una collettiva perché appunto è partecipata da giovani artisti emergenti. È organizzata da Rotaract Club Palermo Ovest e da Rotaract Club Palermo, insieme a Uriel Academy, che è una scuola d'arte, e la Porta dell'arte, che è un'associazione artistica. Il ricavato della raccolta fondi andrà a finanziare il progetto artistico Le Gocce di Emozioni, ideato dalla Scuola Partire per l'Infanzia alla Taria dei Piccoli e patrocinato da Conf Cooperative Sicilia. È un progetto che appunto consiste in laboratori artistici per bambini e ragazzi affetti da disturbi o dello spettro autistico. In secondo luogo, una parte dei proventi, quindi del ricavato, andrà a finanziare la riqualificazione di alcuni spazi dell'Abbazia. Vorrei appunto cogliere l'occasione per ringraziare i patrocinanti, ovvero Conf Cooperative Sicilia, l'Abbazia di San Martino delle Scale, che ci sta aprendo le sue porte, il Rotaract Club Palermo Ovest e il Rotaract Club Palermo. Non ci sono altre notizie, grazie come sempre per averci seguito. L'appuntamento torna con i prossimi notiziari di Media News.